Marco, ma Busaitor gli ha fatto un report per AXSupport, era quasi sicuramente lo bannavano prima o poi Sì, sì E quindi è stato furbo a venderla a Campria che loro bannassero, e coglione chi li era cobrato Ma perché lui ha sempre hackerato, è diversa la cosa Ecco il presidente, il presidente full transparent con l'uomo cc, un intelligente lui, eh Cazzo, coppa del carcero Bella Torna, torna, G Amperia Amper No, non è caduto Paola turret, qua, Fede, 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 due di qua, due di qua Ancora qua Cazzo di coglione Cazzo distrutto, fino a te L'ho messo la turret, come scendi l'estero Cazzo, mi ha toto 40 con un colpo Ma non è, John Non è, John Non è, John E che mille E ce l'hanno pure qua ai parcheggi a turret Non ce ne hanno Qua sotto alle scale, guarda Guarda, guardami la visuale No, me stavre lavorando a seconda Non ce ne hanno Eh, vada gare, mi sa Ah, mi spedio un po' troppo Anco lei Guardi, 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 guardi E io sono, non ci sono lei Morto Mi raccomando, non andiamo, ci camperiamo. Siamo in uffici? Eh no, ormai Fausto ha messo la roba. Eh no, aspetta, ora gli metto la dudetta d'attica. Ha capito Fausto, ma loro hanno 259 mila. Bella fede. Ma dove stanno? Eh un attimo. Eh non è qua eh. Oh ma quella cazzo dei turret, si rompe. Guarda. Eh sopra sopra. Oh ma quella cazzo dei turret. C'è anche una a sinistra sotto le scale. No, è morto. Eh sì, ci sono riusciti. Ma è morto, è morto, è morto, è morto, è morto, è morto. Mamma mia. Sta scendendo, vai alla finestra, vai alla. Io sono scandalizzato dalle turret che hanno. Sì ne hanno tipo tre, o forse anche quattro. Eh lo farai dentro. Un attimo. Come lo vado a fare io? Cioè vado a prendere. Beh. Ma sbaglio o questo c'ha più 10 protezioni? Cazzo da vicino l'ho massacrato. Eh. Oh solo io... No ma che cazzo scrii. Sì. Non è più giù. Noi siamo... Siamo un clan... Educato. Ecco. Dovete non scrivere quello mo... Si incazza. Oh no! I'm bot. On. Beh vabbè. Il culo è sempre infinito con la mia testa. Non ti prende con un colpo. Ti prende con uno, massimo. E poi boom è 18. Sì. 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 Sono scarsi. Beh. Non avevo due mili. Guarda un po'. Ma no. Poi è da... Sì. 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 Appena lo riesco a frazzare gli faccio un report e chiedo il tracepidio. Round start. Non lo sapevate che era modus il boia? Bene. Come il boia è il colo... Guarda l'hanno già bannato il boia. Ah eh? Bene aspettiamo il 3 CP allora. Oddio quante ne hanno? Ho una l'ho rotta. Occhio dietro. Occhio dietro. Ti fai fare come un po' l'altro. Bello. 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 No ma dietro davanti sai che la Durette non spara dietro eh. Copertemi la schiena. Eh vabbè ma allora dillo. Allora dillo. Allora dillo. E allora dillo. Vabbè non diamo kill. Allora dillo. Allora dillo. 6. 6 kill sopra. Arriva. Assist. Pazzesco eh. Cioè. A due di ping e il presidente sono riuscito a fare gli after kill con il cecchino. E lui è preso in testa. Davanti. Guarda che per fare a risciotto con l'ago ce ne vuole di culo eh. Pistro. Cazzo l'hai distrutto. Eh. Destro. Destro. Non so destro. Da qua. Da qua. Vabbè però stavo dietro a quel cazzo di Gamion. Bella. Ah si sta fanno un culo. Quindici. Cicc. Quindici. 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 Il turrent fa neanche il coso. Dai cazzo dov'è? Vabbè tanto col droe win. Vieni. E perché tre pari? Tre zero. Oh io mi ricordo quando... Si abbiamo da un sacco di livellini i BC su... pure in un art si chiamano o no quando tutti i livelli da quella livellina di mafo maia mi diciamo così a parte dubbè si viva no vabbè ma non si può rischiare eccolo qui Sinistra, sinistra, sinistra Attacca le bacche Ma sbaglio ho fatto una cosa un po' da Ma era girato E poi dopo ha tankato anche l'HS da vicino I dettagli di questo gioco Ma eeeh Sì ma porco del signore Due davanti Ma ci mette la turret Ma madonna due turret Madonna Madonna quattro turret E' l'ha leftata Come cazzo fai a perdere contro quattro turret Cioè a perdere Come fai a perdere contro quattro turret A perdere contro quattro turret E' impossibile proprio Cioè Spero che come giocano questi di merda Ma ancora Un'altra volta 3 su 3 headshot Ma dai ma che sfiga Eeeh Niente Io devo giocare Io non gioco contro delle persone Gioco contro l'edition No tu giochi contro le turret Così qua Poi fateci caso Giorno ha fatto 3 kill 3HS E qui 2 su di me Bombe l'assist Ma mangio Ma dio Che arata che arata Ma 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 Ma